Ho sconfitto con le ordate Shinobi e ho fatto la Shinobi Rassolation con Riocchi La sua arte ninja segreta con le 5 ferme al gamene E permette di switchare la sua personalità maleducata e violenta La quale la farà a modo più veloce La farà diventare potentissima in attacco E' questo il personaggio che mi forza c'è da camora Riocchi nella sua personalità maleducata e violenta Una Vediamo se qui c'è qualcosa di difficile Ah beh, con i chili Che ci dà la vita Andiamo a vedere cosa c'è Niente, perché allora ci metti in contenitori, cazzo Allora qui dall'altra parte c'è quella dell'edilizia Questa foresta comunque è il luogo in cui abbiamo iniziato l'avventura con Riocchi e Diona Fatto Qui cosa c'è? Oh, una fregavena, vai A fare il giro delle rocce Per tornare indietro, andiamo Seguiamo il Kunai Compass Questa visione è le ultime tre piattaforme del gioco Quindi andiamo Ah, eccoci qua Spiazzale Andiamo qua la conci... Eh, che cazzo Vuole il mostro petto la potenziata Ah, è finito Il missile felice Che petto la potenziata Che palle Quanto tutto dai, Riocchi è una bomba Praticamente, ecco guarda Ha già fatto Sta già per fare Oh, tutto è bene Diventiamo allora una personalità maleducata Riocchi in personalità maleducata Potrebbe fare un'edizione per il casting di Conquer Per far bene Perché tutti i personaggi In questo modo In quel mitico video gioco Sono come Riocchi in personalità maleducata Caponi e violenti Guardate Abbiamo decimato tutti in cinque secondi Con quest'altra ninja segreta E il todisto Dice Si parla anche in inglese Quando ha la personalità mangiata Il todisto Mangia questo Ah, ora però ha finito dire Sono tutte Tornate a normale Qua sono buono, questo è Vai No, sono interrasportati E ne ho fatti fuori, credo E' simpatia Non diventa fila loro C'è una tendenza segreta un triangolo Che è? Ah Pioggia di fulmini Con il fucile Va bene Possiamo diventare maleducati Però dai Manca pochissimo Ah, ah Qui c'è un muro di oraceo C'è l'ultima metaforma Scinomi del gioco Ora Non siete morti Oh, che falle No, 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 no Io ti prego Vai State fuori? No Allora Due fotture di menta Aspetta No Cazzo come l'ha bloccato Mi piace con lo scudo Vai Alec Ma questa me la voglio tenere Allora Il sentiero per andare a fine La visione è là Noi però Andiamo per di qua Con questo lunghissimo sentiero Dove c'è l'ultima metaforma Del gioco che è Del Anzo Academy Viamo E allora Andiamoci a finire Sta missione Grandissima Ryochi Una delle mie preferite Dobbiamo battere Ryochi e Riona Non volete fermarmi Vorrei vedere Sei il personaggio più forte del gioco Electric Bombsher E modalità maleducata Andiamo Che roba Grandissima Modalità maleducata C'ho prima fuori Ryochi Che Con il suo fucile Da cecchino Mi dà un fastidio Incredibile Ecco Tornata normale Peccato Dora davvero Per poco tempo Via Pioggia E ora Dovremmo spingere Con la scena A fare la scena Di transformation Ecco Ryochi si trasforma Happy Nissul Però Andiamo No no Ryochi Paglia Ah Non c'è L'ingresso Ah Vai Anche Riona Ma Già So Vai Pioggia Col fucile Adesso Vai Attiviso Attiviso Subito Che Overpower Questa Ragazza Il personaggio Mi si è arrancato Non assurdo Attiviso Per cosa Che fate Di attivare Sbaglio Non so Se mi si è arrancato Ora Mi è arrivato Ancora più forte Sono fuori Riobi Ancora abbastanza Precchiavitina Riobi Mazzò Quanti ari Avrei Può fare Guardate Non vedete Pagli degli alberi E continuiamo Ad alzarci Incredibile Non ho parole Ecco Guardate Come siamo andati In alto Quattro Me ne serve Una Per diventare Un'altra Soltà L'angeli ha Lo studio E il fucile E prende la vara Ecco Si può muovere Anche la velocità Supersonica In pratica È come se correste Normalmente È come se correste Muovendomi Normalmente Con la sua Persona L'amore Educata Con la sua Persona L'amore Educata Viene Interrompere Qualsiasi Arte Ninja Segreta Degli altri Personaggi Inutile Che fai L'Arte Ninja Segreta No Ha finito Il tempo Peccato Ah Purpuru Finish Ha un punto sulla testa Sono Iona No 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 Prima Quotinta Me Cioè Vabbè Sono il primo Da tutto Sto Tempo Guardate Vabbè E' Che fai E' finito Ma 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 Vabbè Posso Che Rompere E' vero Non Nulla Posso Amati Alla Porta Dalla ancora ho fatto ancora troppo è veramente potente pari e poi anche questa ma puru puru finis purerai il fungo d'accordo sono la sorella maggiore dopo tutto abbiamo distrutto tutte le piattaforme ragazzi sembra che io abbia vinto proprio come pensavo troppo forte era questo il vostro meglio? è così che mi sa rispetto a vostra sorella? tornerò non appena distruggerò l'ultima piattaforma aspetta mi dispiace ma la partita ormai è decisa stronzate era questo quello era il tuo meglio allora? ti conosco sorella so quando tu sei seria quindi dov'è il tuo rispetto? se dovrai combatterci allora fai e prova a ucciderci sarò felice di morire in questo modo e non osare giocare con me sono una shinobi hai ragione mi dispiace Ryobi molto bene avremo una rivincita e questa volta ci sarà sangue si è afferata la rena da sola ebbene sì ragazzi il boss finale è Ryoti in modalità cafona in modalità maleducata è violenta volete che sono sei io? e allora va bene puttane non c'è più punta di ritorno adesso se credete che questo sia un gioco volgare e allora quando avete giocato a conker's bad party praticamente tutti i personaggi faranno come Ryoti in modalità maleducata nonostante tutto è un gioco che andrò per lei moltitudini di situazioni di film che hanno fatto ah ora sblocchiamo un sacco di cose prima si andiamo eeeh 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 riobi fottuto pezzo di merda riona puttanella dai capelli scompigliati fatemi sotto che cazzo avete da ridere voi due? chiamo ripetendo perché saremo felici si grazie sorella per aver fatto per tutto questo se moriamo combattendo così non avremo rimpianti noi però non pianifichiamo di morire mi dispiace lasciatemi tornare normale per un momento è difficile continuare a parlare in questo modo ho un'ultima cosa da dire un'ultima cosa quando mi hai detto di andare a morire ti ho detto che non lo ricordavo ma non mi aveva fatto effetto ma non era vero cosa? oh capisco mi dispiace io volevo non sapevo come scusarmi non devi scusarti io sono felice che tu l'abbia detto eh? ho la lacrime agli occhi ragazzi voi due mi avete sempre seguito come due cagnolini quando tu sei diventata una ribelle ero veramente felice tutto ciò mi ha detto che tu sei cresciuta e ha iniziato il tuo sentiero per diventare adulta e so che un giorno tu e Riona diventerete delle bene shinobi e quando noi tre e sapevo che un giorno tu e Riona diventavate delle vere shinobi e quindi che tutte e tre potevamo essere uguali competenti a lavorare insieme l'ho sempre sperato ma poi sono morta e ho dovuto lasciarvi sono io quella che si deve scusare quindi mi dispiace mi dispiace così tanto sono morta quello è tutto ciò che dire e ora torniamo dove eravamo rimasti e se ritorniamo educata e violenta si ci sto riprendendo tutto in questa parte perché poi voglio fare un bel combattimento l'ultima fine dell'estate l'obiettivo sconfiggi Ryoki e siamo a Ryobi ovviamente final battle e ci rivediamo alla prossima parte ciao ciao